Music 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 Non mi cazzirà, non mi fassi da loro, no! Io non ho scritto pagina e pagina, ho visto assiale quell'arte e questo informo di una macchina a scalare le varie ho scritto sembra una lampina in casa mia, non c'è più una situazione il senso del tempo di salire dal pubblico e non c'è vento di fermi la naturale grazie alla quinto giusto divisa del vento senti le prezze con una licea della schiena ti cercherò quella stessa se vuoi fermarmi in casa provo a tagliarmi da senza perché diciamo. Grazie Valerio. Grazie a tutti.